C'è da temere il contagio che porta con sé una malattia, una malattia che prende il nostro corpo, una malattia che può essere curata ma che può avere anche conseguenze molto più negative e quindi c'è da temere il contagio, bisogna comportarsi in maniera responsabile di modo che non diventiamo noi un canale di trasmissione del contagio per i nostri fratelli. Per cui se devo rispondere cosa c'è da temere, dico c'è da temere la malattia e c'è anche da temere la superficialità del comportamento che potrebbe danneggiare i nostri fratelli. È un momento in cui dobbiamo veramente mettere insieme la salvaguardia della salute del fratello e anche la salvaguardia della nostra salute. È un momento di solidarietà, di responsabilità e anche di carità. Non posso pensare solo a me stesso, devo pensare anche al bene dei fratelli. Certo, noi credenti leggiamo tutto con la fede, con la fede che ci assicura la presenza di Dio, che ci assicura che Dio è con noi e non è contro di noi. Quindi dobbiamo aver fede in Dio sia perché è il nostro protettore, nostro padre, la nostra forza, sia perché Egli ci aiuta a vedere in questo momento così buio dov'è la luce. E allora avere fede in Dio significa cercare la luce. E la fede ci fa vedere la luce. E la fede si accende alla luce dell'amore di Dio e alla luce della vittoria di Cristo risorto dai morti, vincitore del male, di ogni male, di ogni male, anche di quello fisico. Grazie Sua Cerenza. Ave Maria. Ave Maria.